del Brescia. Davide Possanzini, Marco. Mister, primo tempo in cui il Brescia è andato avanti, avete davvero corso tantissimo. Nella ripresa forse avete patito questo calo di energie fisiche. No, abbiamo patito a livello fisico, sì, qualche giocatore magari un po' di stanchezza si è sentita. Credo che ci sono tante componenti, nel senso il campo molto pesante, differente da quello che ci alleniamo tutti i giorni, che è un sintetico duro. E poi abbiamo sofferto la loro fisicità, il loro modo di giocare, a un certo punto rubavano la palla e ripartivano con questi lanci lunghi, con la fisicità. Loro l'abbiamo sofferto, era inevitabile. Era inevitabile, però sono soddisfatto perché la squadra, nonostante il campo fosse in ottime condizioni, abbiamo provato a giocare sempre. Non è qualche volta il portiere che ha fatto un po' arrabbiare, però tutto sommato sono soddisfatto della partita. Mi dispiace per il risultato perché i ragazzi hanno messo veramente tutto in campo, sia a livello tecnico che caratteriale, quindi sono soddisfatto. Davanti avete combinato bene strada, ha dimostrato di essere un giocatore molto prezioso per voi, il suo recupero può essere una buona iniezione di fiducia e di gollo soprattutto per voi. Sì, ce l'auguriamo, ci auguriamo più che altro che possa far strada perché è un giocatore dalle indubbie qualità e sono soddisfatto. Sono soddisfatto per come ha fatto lui e sono soddisfatto per come hanno fatto i ragazzi a livello di atteggiamento, quindi vado a casa contento. Grazie mister e complimenti. Grazie davvero, grazie.